John, sembri così serio. Che cosa sta succedendo? Mi sono innamorato di una ragazza più bella di te. Prenditi cura del bambino da solo. La sua espressione seria mi sorprese quando mi disse che John aveva qualcosa di cui parlare. Ma poi capii che si trattava di questo. Dare del moccioso a nostro figlio e assumere un atteggiamento altezzoso nei miei confronti. Dopo avermi fatto girare, sono rimasta stupita da questo trattamento. Gli dissi solo di darmi un po' di tempo per pensare e andai in camera da letto. Ma dopo un po' ho sentito il rumore della porta d'ingresso che si chiudeva. Sembra che John sia uscito di casa e probabilmente si sta dirigendo a casa di Rose. Ero già stufa dell'atteggiamento di John. Il suo atteggiamento prepotente, il suo comportarsi come se fosse lui a provvedere a noi. Ma ora sta tradendo la mia migliore amica. Pensandoci bene, Rose ha sempre portato via le persone che mi piacevano. E John, che chiamava suo figlio moccioso, chiaramente non provava alcun affetto. Se gli fosse importato solo di un prezioso bambino nel mio grembo, l'avrei sopportato da sola. Ma questa misera fine poteva essere evitata. Crescerò questo bambino bene e con dignità. Se lasciati soli, quei due probabilmente toccheranno il fondo. Ma questo non mi soddisfa. Dovrebbero pentirsi delle loro azioni. E anche se piangono e implorano, ormai è troppo tardi. Mi chiamo Emily. Ho 26 anni. Vivo in un appartamento che i miei genitori hanno comprato per noi, con mio marito, John. I miei genitori hanno lavorato all'estero fin da quando ero piccola. Quindi, sono stata cresciuta dai miei nonni paterni. Quando ero piccola ero fragile, così quando i miei genitori sono dovuti andare all'estero si sono consultati con i miei nonni, che hanno voluto fortemente prendersi cura di me. Sembra che i miei genitori, non potendo prendere il congedo per malattia all'estero, mi abbiano lasciato alle cure dei nonni. Sarebbe una bugia dire che non mi sentivo sola. Ma so che i miei nonni mi volevano bene e mi accudivano. Inoltre, ogni volta che i miei genitori avevano tempo, mi videochiamavano. E quando potevano prendersi una lunga pausa, tornavano in Giappone per vedermi. Avendo trascorso un'infanzia così precoce, sono diventata gradualmente più sana prima di entrare alle scuole medie. E ho potuto condurre una vita non diversa da quella di una persona comune. Poi, quando ero alle superiori, i miei nonni furono coinvolti in un incidente stradale mentre tornavano dalla spesa e morirono. Considerata la loro età, ne avevano parlato con i miei genitori e avevano preparato un testamento. Secondo il testamento, avrei dovuto ricevere tutti i soldi dell'assicurazione e l'eredità dei miei nonni. A causa del loro lavoro, i miei genitori non potevano rimanere in Giappone in modo permanente. Ma mi hanno comprato un appartamento per soddisfare il mio desiderio egoistico di rimanere in Giappone. Alle superiori ho iniziato a vivere da sola, ma i miei genitori mi mandavano soldi più che sufficienti. E grazie a mia nonna, che mi aveva insegnato diverse cose come la cucina, sono riuscita a vivere da sola. Anche quando ho iniziato a lavorare, mi hanno detto di risparmiare per le emergenze e hanno continuato a mandarmi soldi. Così, non avevo toccato l'eredità dei miei nonni. Ho conosciuto John, che sarebbe diventato mio marito, in un'azienda cliente dello studio in cui sono entrata. Sembrava che John si fosse innamorato di me a prima vista, quando è venuto a discutere di affari nella mia azienda, e dopo il suo incessante inseguimento. Abbiamo avuto diversi appuntamenti e abbiamo iniziato a frequentarci. La mia relazione con John procedeva senza intoppi e circa un anno dopo mi chiese di sposarlo. I miei genitori parteciparono al matrimonio, ma avevo detto a John che erano molto impegnati. Tre mesi dopo il matrimonio, gli ho detto che i miei genitori erano sempre all'estero e che tipo di lavoro facevano. Questo perché? Nelle relazioni precedenti, c'erano state persone interessate solo ai soldi dei miei genitori. Così ho deciso di parlare dei miei genitori solo dopo essermi fidata di qualcuno. Ma sul serio, i genitori di Emily sono fantastici. Continuiamo a ricevere i soldi che ci mandano. Così avremmo un po' più di respiro nelle nostre finanze. Mi piacerebbe vivere con le nostre entrate. Dai, per favore. Ehi, anche se è solo all'inizio, solo all'inizio, se è così, ne parlerò con i miei genitori. Quando lo dissi a John, mi consultai con i miei genitori, che accettarono di buon grado, dicendo che era il minimo che potessero fare. Per alcuni mesi, John investì la giusta somma di denaro nella casa. Ma gradualmente quella somma iniziò a diminuire. Anche quando ne parlai con John, lui si giustificò dicendo che era solo per questo mese. Ma l'importo che metteva in casa non è mai tornato all'importo originale il mese successivo, o i mesi successivi. Probabilmente John usava i soldi per se stesso, visto che aveva iniziato a tornare a casa ubriaco più spesso. Ho cercato di discuterne con lui molte volte, ma non si poteva ragionare con un John ubriaco. Prima aiutava nei lavori domestici, ma ora non fa più nulla. E la mia insoddisfazione nei confronti di John continua a crescere. Sono diventata casalinga su richiesta di John, ma non potevo vivere solo con i soldi che ci mandava e pensavo che non sarebbe stato un bene per noi. Non potendo parlarne con John, decisi di accettare un lavoro part-time. Pochi giorni dopo aver iniziato a lavorare part-time al supermercato locale, John tornò a casa arrabbiato. Ehi, chi ti ha permesso di lavorare part-time? Non ho detto che andava bene. Non fare le cose di testa tua. Smetti subito. È vergognoso. Stai dicendo che sei insoddisfatto solo del mio stipendio? È vergognoso. Non sono insoddisfatto del tuo stipendio, ma non lo porti a casa. Non possiamo vivere così. Cosa? Ci sono i soldi che mando. Basta. Domani non andare al tuo lavoro part-time. Se non vuoi smettere, ti chiamerò per farlo. Fedele alla sua parola, John mi chiamò il giorno dopo, quando andai al lavoro, e mi disse. Ha chiamato tuo marito. Non potevo portare i nostri problemi domestici sul posto di lavoro, quindi dovetti dare le dimissioni. Decisi di parlare con la mia migliore amica d'infanzia a Rose della situazione con John. È successo. Chi è Emily? Dirò a John come la penso. Inizialmente rifiutai la sua offerta, ma sapendo che non avrebbe accettato un no come risposta, finii per portare Rose a casa quel giorno. Quando dissi a John della visita di Rose, a sorpresa annullò i suoi piani di uscita e tornò subito a casa. Mentre noi tre parlavamo, John disse a Rose. Cavolo, quando ti ho visto al matrimonio, ho pensato che fossi la più carina di tutte. Nessuna adulazione. Smettila, John. Questo mi rende felice. Anche tu sei bello, ma ehi, Emily si stava lamentando, sai? Dovresti lasciarle tenere il suo lavoro cort-time, no? Se lo dice Rose, credo di doverglielo lasciare. Ah, allora, che lavoro fai, John? Sono sempre stato curioso. Emily non me l'ha mai detto. Guardai Rose e John mentre parlavano e ridevano insieme. Il modo di parlare di Rose mi sembrava in qualche modo sgradevole, come se mi stesse rimproverando. Ma rimasi in silenzio, pensando che se questo avesse fatto cambiare idea a John, sarebbe stato meglio. Mentre mi dirigevo in cucina per preparare la cena, sentii Rose chiedere a John perché mi avesse sposata. Sembrava avere una buona quantità di beni e sembrava che avesse dei soldi. Disse, ridendo. Mi chiesi se John mi avesse sposato per i soldi, ma non ricordavo di aver parlato dei miei beni. La conversazione sul lavoro dei miei genitori era avvenuta dopo il matrimonio. Così mi dissi che doveva essere uno scherzo e che ci stavo pensando troppo. Tuttavia. Una certa conversazione tra Rose e John rimase nella mia mente. Vorrei aver incontrato un uomo così bello e con cui vado così d'accordo prima di Emily. Mi sembra che lei non sia un buon partito per lui, come se fosse uno spreco per lei. Ah! Non è troppo tardi per cambiare ora. Scherzo! Ah! Sono rimasta scioccata dalla risposta di John alla risata di Rose. Infatti. Ah! Sei più bella di lei ed è divertente parlare con te. Forse dovrei cambiare discorso. Ah! Rose finiva spesso per uscire con persone che mi piacevano dopo averle avvicinate. Quindi mi sentivo in ansia. E John si comportava da John. Una persona normale non avrebbe detto certe cose, sapendo che avrei potuto ascoltare. Dopo che Rose se ne andò a tarda sera, andai in salotto dove si trovava John per dirgli che la conversazione di oggi mi faceva sentire a disagio dal punto di vista di una moglie. Rose ha detto che dovresti essere autorizzato a lavorare part-time. Non posso deludere una bellezza, rovinerebbe la mia immagine. Emily, puoi lavorare part-time. Che cosa? No, ma davvero, Rose è carina. Ehi, voglio consultarmi di nuovo con lei. E in caso di problemi, dammi i dati di contatto di Rose. Oh, ok. Mi sentivo un po' a disagio nel constatare che John aveva cambiato idea così facilmente alla sola osservazione di Rose, quando non aveva voluto ascoltare le mie persuasioni. Ma mi rassicurai che eravamo sposati, non solo frequentati, e che tutto sarebbe andato bene. Dato che ora avevo il permesso, decisi di iniziare a lavorare part-time in un ufficio tra qualche giorno. Da quando ho iniziato il mio lavoro part-time, John ha iniziato a tornare a casa più tardi del solito. E nei giorni di festa ha cominciato a uscire di casa più spesso, dicendo che doveva lavorare. Anche quando era a casa, sorrideva sempre più spesso al telefono, portandolo con sé in bagno e sotto la doccia. Quando il telefono suonava, si allontanava da me. A volte uscendo sul balcone. Non riuscivo a togliermi di dosso il sospetto che ci fosse qualcosa di palesemente sbagliato. Ma temevo di far arrabbiare di nuovo John se si fosse rivelato solo un mio malinteso. Così non gli dissi nulla. Poco dopo, sentendomi male per diversi giorni, decisi di andare in ospedale. Gli esami rivelarono che ero incinta di quattro mesi. Soprafatta dalla gioia, piansi in ospedale e inviai in fretta un messaggio a John per informarlo. Tuttavia, John tornò a casa tardi quella sera, dopo che la data era cambiata. Sono rimasta sveglia ad aspettarlo e, non appena John è tornato, gli ho subito detto della gravidanza. John sembrava scioccato e mi chiese ripetutamente, è vero? All'inizio pensai che fosse sopraffatto dalla gioia. Ma il volto severo di John e il suo silenzio mentre si dirigeva verso il bagno, seguiti da una telefonata che fece, mi lasciarono ad origliare. Da quando avevo dato la notizia della mia gravidanza, John aveva iniziato a rimanere fuori la notte senza alcun preavviso. I mesi passarono senza quasi nessuna comunicazione e un giorno, insolitamente in anticipo dal lavoro, John mi disse che aveva qualcosa di importante da fare. John mi disse che aveva qualcosa di importante da dire. John, sembri serio. Qual è il problema? Mi sono innamorato di una donna più bella di te. Prenditi cura del bambino da solo. Sentendo che c'era un discorso importante, fui sorpreso dal suo atteggiamento serio. Ma le sue parole mi fecero capire cosa stava succedendo. Ero sbalordito. Si era riferito a suo figlio chiamandolo il bambino e si era comportato in modo dominante nei miei confronti, sballottandomi di qua e di là. Gli dissi che avevo bisogno di un po' di tempo per pensare e andai in camera da letto. Poco dopo sentii la porta d'ingresso chiudersi. Sembrava che John fosse uscito di casa, probabilmente diretto a casa di Rose. Mentre riflettevo su questo, Rose mi chiamò. John è in casa? Perché? Non c'è motivo. Sono solo curiosa. Mi prendi sempre in giro in questo modo. Sono stufa. Ma John te l'ha detto. Mi dispiace. Ho preso un altro dei vostri cari. Ma mi sono innamorata di lui. Sai, non ci si può fare niente, vero? Non ci si può fare niente. Sì, non si può evitare. È stato il destino. Allora Emily, posso avere John? Le parole di Rose mi lasciarono senza parole e riagganciai il telefono. Tradita dalle due persone che amavo, ero decisa a proteggere il bambino che era in me. Iniziai a preparare la mia vendetta contro John e Rose. Raccontai tutto ai miei genitori che, pur arrabbiati, erano felicissimi della prospettiva del nipotino e accettarono di non interferire fino a quando la mia vendetta non fosse stata completata. Mi feci raccomandare da un detective per indagare sia su John che su Rose. Pochi giorni dopo, quando pensavo che John fosse tornato a casa, chiese di nuovo il divorzio. In quel momento iniziò la mia strategia. Feci finta di piangere e feci capricci per non volere il divorzio. John mi rispose con disgusto. Ehi, non piangere. Non sei più attraente per me. Rose è più bella e più divertente da frequentare. Quindi ti lascio i bambini. Per favore, divorziamo. Ho capito. Ecco. I documenti per il divorzio. Dicendo questo con un sorriso, consegnai a John i documenti del divorzio, che avevo già firmato. John sembrava sconcertato, incapace di comprendere ciò che stava accadendo. Ho dovuto agire per assicurarmi che non volessi improvvisamente tenere i bambini o rifiutare il divorzio. Ti va bene divorziare, vero? Si tratta di questo? I bambini sono comunque rumorosi e fastidiosi. E non vorrei portarli con me in nessun caso. Quindi non preoccuparti, ah. Ne sei sicuro? Non te ne pentirai. Se me lo prometti, possiamo procedere con il divorzio. Non me ne pentirò. Ah. Oh, e per favore lascia presto questa casa. Rose e io vivremo qui, ah. E ci occuperemo dei danni e del mantenimento dei figli da parte di Rose, ah. Sentendo questo, mi resi conto che John era vittima di qualche malinteso, ma scelsi deliberatamente di non parlarne. Dopo la conversazione, John depositò i documenti per il divorzio e partì per un viaggio con Rose. Chiamai il mio lavoro part-time per prendermi un po' di tempo libero e poi chiamai i miei genitori. Quando chiesi se potevo lasciare l'appartamento che avevano comprato per me, mi risposero che stavano già cercando una nuova casa per me e che avrebbero venduto questo appartamento. Da quel giorno iniziai a impacchettare le mie cose per trasferirmi nella nuova residenza che i miei genitori avevano organizzato. Due giorni dopo ricevetti un gran numero di telefonate da John, presumibilmente di ritorno dal suo viaggio, ma non risposi e gli mandai invece un messaggio. Non posso più vivere qui. È stata messa in vendita. Ho mandato le tue cose a casa di Rose per ritirarle alla consegna. Dovrebbero arrivare oggi. Questo è tutto ciò che ho inviato prima di spegnere il telefono. In seguito mi recai nuovamente nello studio del bugiardo dove lavora un amico di mio padre. Accennai all'avvocato che John poteva aver frainteso qualcosa, probabilmente a causa di qualcosa che gli aveva detto Rose. Sembrava che John pensasse che avrei pagato io i danni e il mantenimento dei figli, e mi chiedevo come gli fosse venuta questa idea, ma la risposta divenne chiara il giorno dopo. La mattina dopo, quando accesi il telefono, fui sopraffatta dal numero di chiamate e messaggi non ricevuti. Così, con un po' di trepidazione, chiamai Rose. Mi rispose dopo un solo squillo. Ehi, cosa significa tutto questo? Perché hai venduto la casa di John di tua iniziativa? Non capisco. Rose, cosa stai fraintendendo? Quello era l'appartamento che avevano comprato i miei genitori, ed era intestato a me, quindi era mio. Continuo a non capire. John ha detto che era casa sua. Ma beh, pagherai i danni e il mantenimento dei figli, giusto? Allora mi sta bene. Dammela subito. Ma di cosa stai parlando? Sei tu che devi pagare. Puoi evitare di dire cose senza senso, Rose, che ho detto di male? Voglio un nuovo accessorio. Quindi sarei felice se tu potessi sbrigarti. Non avrei mai pensato che fossi così priva di buon senso, Rose. Hai detto anche a John quelle strane cose. Parlare con te mi fa venire il mal di testa. Quindi, se hai delle domande, parlane con l'avvocato. Ora riattacco. Aspetta, solo un secondo. Prima che potesse finire, decisi che ascoltare ulteriormente non avrebbe portato di certo alla comprensione e decisi di lasciare tutto all'avvocato. Due giorni dopo, dalla loro voce capì che l'avvocato era esausto. Secondo l'avvocato, Rose sembrava credere che le donne abbiano incondizionatamente diritto agli alimenti e al mantenimento dei figli. Naturalmente, in quanto colpevole, Rose è quella che dovrebbe pagare. E non c'è mai stato alcun motivo per cui io dovessi darle dei soldi. Dopo aver spiegato chiaramente questo concetto, Rose si è rifiutata di accettarlo e per qualche motivo ha iniziato a piangere, rendendo impossibile una conversazione razionale. Quando mi sono scusato per aver scaricato tutto sull'avvocato, mi hanno suggerito che sembra inutile dire altro. Quindi prepariamo i documenti per la richiesta di risarcimento e andiamo avanti. Anche John mi ha contattato, ma ho semplicemente risposto, ho lasciato fare all'avvocato. Quindi, per favore, parlate con loro se avete qualcosa da dire e da quel momento in poi l'ho ignorato. Naturalmente, dato che Rose è l'ordinante. Non il destinatario. Ha dovuto pagarmi 19.000 dollari di danni e John ha deciso di pagare 23.000 dollari di danni e un assegno mensile di mantenimento perché ricevevo una valanda di chiamate e messaggi di lamentele. Decisi di cambiare telefono e di dare il mio nuovo numero solo a pochi amici intimi. Ho ricevuto i pagamenti dei danni e le somme forfettarie da entrambi. Anche gli alimenti per i figli sono stati depositati senza problemi. Pensavo di poter vivere serenamente d'ora in poi, ma non è stato così. Un anno dopo, suonò il campanello. E quando ho controllato il monitor, John era lì in piedi in uno stato di mezza follia. Decisi quindi di chiamare la polizia prima di affrontare il problema. Aprii la porta e decisi di chiedere a John cosa volesse. Così questa è la tua nuova casa, eh? Ti ho visto prima e ti ho seguito fino a questa casa. Ehi, perché non ricominciamo da capo? Quando gli fu chiesto di Rose, John iniziò a parlare con una faccia come se stesse per piangere. Sembra che John si sia poi sposato con Rose. Rose e John avevano un debito di circa 43 mila dollari. Ma poiché Rose voleva sposarsi, hanno contratto altri debiti e hanno celebrato la cerimonia. A causa dell'incidente con me, quasi nessuno si presentò alla cerimonia. E si ritrovarono con un debito notevole. Nonostante ciò, poiché John aveva uno stipendio elevato, avrebbe potuto ripagare il debito lavorando sodo. Ma le spese sconsiderate di Rose peggiorarono la situazione. Prese in prestito denaro da luoghi pericolosi, fece spese per beni di lusso e sprecò denaro per le feste. Il debito crebbe a tal punto che John finì per sottrarre denaro alla sua azienda. Ma è stato subito scoperto e ora il loro debito è salito a 130 mila dollari. E ora Rose è stata portata da qualche parte dagli esattori e non è più tornata. Ed è per questo che è venuto da me. I tuoi genitori sono ricchi e potrebbero pagare facilmente i miei 130 mila dollari. Se me li restituisci, potrei considerare di stare di nuovo con te. Potrei ripagarli, ma mi fermo. Perché? Mi sto offrendo di stare di nuovo con te e... Oh, ho capito. È per via del bambino, giusto? Facciamone un altro. Allora dovrai stare con me e i tuoi genitori dovranno pagare, giusto? Facciamolo. Smettila. Non toccarmi. Come puoi anche solo pensarlo? Perché ho urlato ad alta voce. Il mio collega che stava controllando in casa è uscito e ha trattenuto John. Poco dopo arrivò la polizia e portò via John. Ma per essere sicura, il giorno stesso sono andata a presentare un'ordinanza restrittiva. Quella sera, ci fu un'altra visita. Ed era Rose, in uno stato molto disordinato. Gli chiesi di chiamare la polizia e uscì per ascoltare la storia di Rose. Emily, sono finita qui perché è qui che si trovava John. Siamo migliori amiche, vero? Non vuoi aiutarmi? Sono costretta a lavorare nella vita notturna contro la mia volontà. Te la sei cercata. Ti sta bene. Perché dici cose così crudeli? Restituirò quell'uomo. Ti prego, aiutami. Mentre Rose diceva queste parole e cominciava a piangere, il mio collega, preoccupato per me, sbirciò dalla porta d'ingresso. Rose mise di piangere e, vedendo il mio collega, cercò di avvicinarsi a lui e gli parlò. Allora, questo è il tuo ragazzo? Sono Rose, la migliore amica di Emily. Beh, è un bel uomo. Che lavoro fai? Se dovessi avere problemi con Emily, sentiti libero di contattarmi. Vuoi che ci scambiamo le informazioni di contatto? Puoi smetterla? Stai cercando anche il mio ragazzo? No. Per niente. È solo che tutti i ragazzi con cui Emily esce sono il mio tipo. E visto che i genitori di Emily sono ricchi, non sarebbe male condividere qualche ragazzo con me, no? Dopo aver ascoltato le sue parole, fece un sorriso corretto e tornò in casa. Ho impedito a Rose di provare a seguirlo fino alla porta, anche se sono rimasta stupita dal suo comportamento. Il mio attuale ragazzo non era uno che sarebbe caduto nelle sue tentazioni. Basta così. Rose, grazie per tutto quello che hai fatto finora. Per favore, non venire mai più a trovarci. Addio. Con queste parole, la polizia che era stata chiamata portò via i corvi proprio come avevano fatto con John. Mentre veniva portata via dalla polizia, Rose ebbe un attacco di violenza e ferì uno degli agenti, cosa che la portò a essere accusata di ostruzione della giustizia, oltre ai suoi precedenti, con conseguente arresto. Settimane dopo, nonostante l'ordine restrittivo, John si presentò piangendo. Io e te siamo destinati a stare insieme. Arrenditi e torna da me. Cresciamo i nostri figli insieme, per favore. Oh, in caso contrario, potresti prestarmi del denaro? Anche se le sue parole al citofono mi fecero venire i brividi. Il mio collega si occupò di gestire John al posto mio. Avevamo già chiamato la polizia. E ancora una volta John fu portato via in un'auto di pattuglia. Quando John salì sull'auto di pattuglia, nostra figlia di un anno e mezzo gli disse, Jackie, German, bye bye. Ho pensato di dirlo ora perché non ci rivedremo più. È un peccato, vero? Il pesce che hai lasciato andare era troppo grande per te. Lasciate che vi parli del mio patrimonio complessivo. I miei genitori sono ricchi, ma io ho 5 milioni 900 mila dollari. Presto ci trasferiremo all'estero. Quindi non venite più in quella casa perché non ci saremo più. Arrivederci. Che fosse rimasto scioccato dalle parole di mia figlia o dalle mie, John non venne più a trovarmi. Tuttavia, in seguito, nella cassetta della posta c'era solo una lettera di John. La lettera era un appello a tornare insieme e una richiesta di denaro. E se dovessi fare una breve introduzione, è qualcosa del genere. Io amerò sempre Emily. Non vuoi rompere con quel ragazzo e stare con me, invece? La figlia non è mia. Inoltre, i 590 milioni di dollari di cui hai parlato quel giorno erano solo per attirare la mia attenzione, giusto? So che una cifra del genere non può essere reale. Ti amo. Emily. Credo che tornerai da me e sto aspettando il tuo contatto. Oh, e nel peggiore dei casi, puoi dare la figlia a quell'uomo e tornare da sola. Questo era il tipo di testo che veniva scritto in tre pagine. Senza alcuna intenzione di contattarlo, gettai semplicemente la lettera nel cestino. Dopo quella lettera non ci furono più contatti e nemmeno lui venne a casa. Passarono mesi di tranquilla vita quotidiana e si decise che io, mia figlia e il mio compagno ci saremmo trasferiti all'estero per stare con i miei genitori. Così ci dirigiamo verso l'aeroporto. Il mio compagno è un collega anziano che ho conosciuto nel mio lavoro quad time. Mia figlia gli è molto affezionata, e lo segue come se fosse il suo vero padre. È gentile e serio, l'esatto contrario di John. Da quando ho iniziato a lavorare part time, si è preso cura di me. Pensavo che fosse sposato e che stesse per rinunciare, ma quando ha scoperto che ero divorziata, mi ha avvicinata dopo essersi consultato con i miei genitori. Mi ha detto che avrei dovuto uscire con lui e che se non avesse funzionato, avremmo potuto lasciarci. Ma mentre uscivamo insieme, mi sono scoperta sempre più attratta da lui. È disposto a venire con noi all'estero e abbiamo una relazione con l'intenzione di sposarci. Spero segretamente che ora, con i miei genitori vicini, potremo vivere tutti felici e contenti. Vivere con lui e mia figlia.